Se non crede in te la città nella quale vivi, chi dovrebbe farlo? Questo è stato Sviluppo Napoli, la risposta del Comune, quindi della nostra città, a tanti ragazzi che vogliono una scienza reale per poter restare a Napoli ed essere quel capitale umano che contribuisce allo sviluppo. Questa realtà poi è straordinaria perché abbiamo un percorso collettivo, una cooperativa, i ragazzi prima in questo posto come associazione venivano per realizzare delle loro attività, oggi sono i proprietari, sono i gestori, quindi è un bellissimo risultato che attraverso la parola creatività che è sicuramente quella più forte che tutti qui oggi possiamo vedere, dai colori ai libri, le attività con i bambini, raccontano una storia vincente. Questo è uno spazio soprattutto dedicato ai bambini, visto che in questa città qualche problema sugli spazi per bambini ci sta, è dedicato a chi qualche domanda in più se la pone, quindi ci sono un sacco di libri. Poi ci sono giocattoli di legno, prodotti fatti a mano solo da realtà locali, quindi si prova a spingere in qualche maniera l'idea del consumo critico a punto di vista proprio pratico. È in via giusto a Bagnoli la quarta delle dieci attività d'impresa finanziate dall'assessorato ai giovani alla creatività e dell'innovazione del Comune di Napoli attraverso il progetto Sviluppo Napoli. Un'iniziativa rivolta ai giovani come sostegno concreto allo sviluppo economico del territorio. Dieci contributi da 20.000 euro distribuiti sulle dieci municipalità. A Bagnoli il fuori orario è una libreria, ludoteca, laboratorio, negozio, ma soprattutto un luogo di svago e un contenitore di offerte culturali legate alla lettura, alla musica e all'arte. Un'attività che aderisce al consumo critico e dall'associazione anti-racket e anti-usura italiana. Lo spazio diventa sempre più quello che immaginavamo tempo fa. Prima qui collaboravamo come associazione e oggi invece con questa misura di sviluppo Napoli siamo diventati in qualche maniera indipendenti da altre realtà e quindi siamo direttamente noi a fare e a rischiare. Soprattutto è un modo per stare vicino a tanti giovani che restano nella nostra città, investono con creatività e innovazione nel rispetto dei luoghi in cui esistono queste attività economiche. Anche qui un luogo di accoglienza con libri, creatività, giocattoli e tutto ciò che possa aggregare le persone del quartiere, in particolare i giovani e giovanissimi che in questo quartiere a Bagnoli sono in tanti.